salve ragazzi adesso vi faccio vedere come si può vedere video con l'applicazione car tube senza fare la donazione praticamente colleghiamo adesso il telefono parte android auto ok accendo a car tube adesso scelgo uno del video il primo qua questo con tucson ok è partito il video ok io adesso ho la macchina ferma quindi quando metto in marcia metto un elettromarcia in marcia vedrai che adesso mi viene fuori ok adesso rimetto di nuovo che mi viene fuori la schermata dove dice che devo pagare dovevo fare una trazione per avere pro vado la freccia sinistra indietro chiudo con l'x rifaccio partire il video ok adesso il video è partito e vedrete che adesso quando vado in marcia con la macchina ok in velocità vedrete che il video continua a andare quindi la versione pro diciamo no sarebbe per il controller per quelle opzioni per quei pulsanti giù di andare a destra finestra e sto andando con la macchina il video ancora va quindi non ho fatto nient'altro l'unica cosa ho fatto la freccia a sinistra tipo per tornare indietro ho chiuso la finestra con la x ok ho fatto ripartire il video perché tutte le volte che parto l'applicazione viene fuori questa schermata questo avviso che devo fare la donazione per avere la versione pro ok quindi non serve fare nessuna donazione per forza solo se volete farlo ok però può andare tranquillamente funziona al cento per cento ok senza problemi buon saprete qualcosa da dirmi commentate sotto grazie mille